Eccolo qua il viale dei cipressi, lo stiamo facendo in macchina. Bisogna fermarsi. Volete sapere una battuta? Qual è l'albero depresso? Il cipresso? Vabbè, anche il salice piangente. No, il salice piangente è disperato. E l'albero più disperato è il salice piangente. A me sembrava il più triste. Il più triste è il cipresso. No, il cipresso è il più oppresso. Il più depresso. No, il cipresso è il più oppresso. Il cipresso è il più oppresso. Sì. Ah, perché ce l'abbete? Sì, sì. No, perché se ce l'abbete, ce l'avete e noi ce l'abbiamo. E si abbiano e ci cipressino. Comunque... Ci prestano qualcosa, ci prestano. Ehi, aspetta un attimo. Mi chiedo com'è dietro il quadro. E l'aspetto più bello è guardare i dettagli dietro il quadro. Perché dietro il quadro c'è il mondo. Ma altro che quadro viventi siete persone dietro uno sfondo. Siete degli imbroglioni, smammato, chiamo la polizia. Siete degli alcoli. Tre, due, uno, fine video. Ecco, vedete gli alcolisti. Guardate gli alcolisti che stanno bevendo alcol. Guardate, hanno già bevuto un'intera bottiglia. Guardate quante bottiglie Guardate le bottiglie Alcolisti onesti Non anonimi Anonimi invece Comunque ci troviamo Nel cuore della notte E sono ubriachi Hanno confusione Sbalzi d'umore E pazzia E Insagna Eh si sono pazzi Questo lo facciamo a Giosu e Carducci Tutto buono Concludiamo che vi baciate La scorsa volta vi avevo fatto vedere Che si ubriacavano Con il vino rosso Stavolta che non è ancora buio Si ubriacano con il vino bianco Anche se è giallo Sono Ok si si Comunque Sono Ubriaconi Il vino bianco Ha effetti migliori Rispetto al vino rosso Ma rende pur sempre Ubriachi Addio Anzi Addio tra 3 2 1 0 Meno Meno 1 Meno 2 Meno 3 Meno 4 Meno 8 Meno 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 Grazie a tutti.